Benvenuto a questa nuova lezione del corso di dizioni online di Garuso Speaker. Abbiamo fatto insieme la meditazione guidata, la visualizzazione della tua voce. Abbiamo anche esaminato quali sono le credenze limitanti che depotenziavano l'uso della tua voce e abbiamo creato delle credenze potenzianti. Perché la nostra vera voce, quella che noi sentiamo e siamo abituati ad ascoltare sin da piccoli, è quella che noi appunto sentiamo risuonare dal di dentro. E però la sentiamo risuonare a 360 gradi, cioè diventa come avrai visto dei film in quelle sale cinematografiche 3D dove c'è dun 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 tutti gli effetti speciali che provengono, tutti gli effetti sonori da tutti gli angoli. E al tempo stesso è una esclusiva nostra ascoltare la voce così, perché solo noi possiamo ascoltarla dal di dentro. Quello che raggiunge invece l'esterno è un suono già diverso, perché è un suono che ha perso già una dimensione. Perché se noi ascoltiamo la nostra voce dal di dentro, la ascoltiamo in 3D, o meglio ancora, la ascoltiamo in 4D. Perché oltre alla tridimensionalità del nostro ascolto c'è anche un'altra componente importante, e cioè l'emozione, che è questa quarta dimensione molto molto importante. Ora, quando noi trasferiamo e parliamo con gli altri, la nostra voce quindi esce dalla nostra bocca, dal nostro apparato fonatorio, e quindi raggiunge l'esterno. Ora, siccome la nostra voce e il nostro apparato fonatorio è come un importantissimo strumento musicale, allora dobbiamo renderci conto del fatto che ciò che raggiunge gli altri sono delle note che noi emettiamo attraverso la nostra bocca. A proposito dell'articolazione, è importante articolare perché i suoni escono meglio, escono più puliti. Però, attenzione, cosa arriva alle altre persone? Eh, arriva una parte di ciò che noi ascoltiamo, e qui entra in gioco la memoria sonora. Perché? Noi, da quando siamo nati, siamo abituati ad ascoltare la nostra voce dall'interno. E c'è una parte della nostra memoria predisposta proprio a concentrarsi sui suoni, sulle sonorità. Questo significa quindi che una parte del nostro cervello si impegna proprio a memorizzare, immagazzinare i suoni. Vi sarà capitato, ad esempio, di scegliere la suoneria di un cellulare, del vostro cellulare. E quando scegliete questa suoneria, l'avete scelta voi, ma molto probabilmente è una suoneria che è ricorrente in altri cellulari. Però avete memorizzato questa suoneria e quindi quando sentite squillare il vostro cellulare lo riconoscete. A volte però succede che in un luogo pubblico, o quando siete a contatto con altre persone, in strada, da un certo punto sentite una suoneria familiare, che è la suoneria del vostro cellulare. Il fatto però è che vi accorgete, cercate il vostro cellulare, ma vi accorgete che non sta suonando. Perché in realtà quella che sentite è la suoneria del cellulare del vostro vicino, della persona che vi passa accanto. Ecco, in quel momento abbiamo utilizzato la nostra memoria sonora. E questa memoria sonora è talmente sviluppata a proposito della nostra voce, perché se per un cellulare che possiamo avere, che ne so, da due, tre anni, cambiamo spesso cellulare, oppure spesso vogliamo cambiare suoneria perché ci dà noia, e quindi se abbiamo memorizzato quel suono per poco tempo, immaginate quanto sia ormai cristallizzata dentro di noi il suono della nostra voce che ascoltiamo da quando siamo piccoli. Quindi, che succede quando esterniamo la nostra voce? Innanzitutto, quelli che percepiscono la nostra voce la percepiscono in maniera soggettiva. E di conseguenza perdono già almeno due dimensioni, perché noi proviamo un'emozione che difficilmente riusciamo a trasmettere, anche se comunque una parte di queste emozioni arriverà. Perdiamo la tridimensionalità nel trasmettere il suono, e quindi possiamo dire che chi recepisce la nostra voce l'ascolta in 2D, quindi perde già almeno due dimensioni. Poi c'è da dire che chi ci ascolta ha una percezione soggettiva. C'è quello che ci sente benissimo, c'è quello che ha un orecchio sovraffino, ma c'è anche quello che ci sente poco, oppure sente soltanto meglio ad un orecchio, oppure ha una memoria sonora un po' pigra. Quindi ciò che arriva agli altri dipende sia da noi, al 50%, ma all'altro 50% dipende dalla fonte che riceve il suono. E poi c'è l'altro aspetto molto importante di questa triade, e quindi voce interiore, voce esteriore e voce registrata. Nella voce registrata noi cosa facciamo? Registriamo la nostra voce, quindi attraverso questo apparecchio di registrazione la nostra voce viene trasformata in un segnale sonoro, e quindi alcune di queste frequenze vanno a convogliare qui nel microfono e vengono poi tradotte in un segnale elettrico. Di conseguenza, se mentre all'inizio ascoltavamo la nostra voce in 4D, poi l'abbiamo emessa e siamo riusciti a trasmettere due dimensioni, adesso, quando andiamo a finire, la nostra voce viene catturata dal microfono e mettiamo tutto in una sola dimensione. Questi sono i miei studi che io ho approfondito nel corso della mia esperienza come speaker e attore doppiatore di documentari per la TV, di audiolibri, e attraverso questi studi che ho fatto in vent'anni che lavoro al microfono mi sono reso conto che quando non riconosciamo la nostra voce registrata è perché il suono che viene catturato dal microfono, per quanto possa essere fedelissimo, per quanto possa essere un suono stereofonico o anche ascoltato in una sala 3D, comunque non sarà mai lo stesso suono che noi siamo abituati ad ascoltare da quando siamo piccoli. E quindi c'è una grossa differenza tra la memoria sonora della nostra voce che sentiamo dall'interno e la voce che ascoltiamo all'esterno riprodotta da un apparecchio di riproduzione esterno come può essere il cellulare. Quindi questa distanza ci crea l'effetto io non mi riconosco, diciamo, non mi sembra la mia voce, non riesco a capire, non mi piace la mia voce, ma non ci piace, non perché necessariamente è brutta, molto probabilmente la nostra voce ha sicuramente, io cerco sempre di trovare i pregi nella voce di ciascuno, il fatto è che noi, siccome non la riconosciamo perché c'è troppa distanza tra la memoria sonora interiore e il prodotto esterno, e che quindi questa distanza, questo gap, ci fa disorientare. Quindi la prima cosa da fare nel mio metodo, amo la mia voce, consiste proprio nel cercare di far collimare, di raggiungere una consapevolezza e mettere in linea, allineare il nostro ascolto interiore con l'ascolto esterno.